Buongiorno, salve, siamo venuti per ristrutturarle la casa, no vabbè a parte i scherzi E vi ricordo che se anche voi volete essere salutati nel prossimo video dovete taggarmi su Instagram dicendo appunto nelle vostre storie di iscriversi al mio canale E poi taggandomi io vi scrivo un direct dove vi dirò che vi saluterò nel prossimo video, oggi saluto loro, nel prossimo video vediamo chi saluto Detto questo ragazzi siamo qua appunto su House Flipper, non vedevo l'ora di riportarlo perché è un gioco veramente bello che a me è piaciuto tantissimo Adesso è pieno di aggiornamenti, sono curioso di andare a vedere Intanto abbiamo già impostato l'italiano, l'euro come moneta e direi che siamo pronti Let's go, nuova partita Benvenuto a House Flipper, questo gioco ti permetterà di acquistare, ristrutturare, arredare e vendere case Per il momento però devi accontentarti di questo, madò che schifo Rudere che puoi chiamare il tuo ufficio Madò che felicità Vabbè, ok Si vede abbastanza bene, se non fosse che non è tanto liscio però non mi gusta Quasi quasi provo a diminuire un concettino la grafica perché ce l'ho tipo extreme di grafica Ok, abbassato un po' la grafica dovrebbe, mi pare che vada un goccettino meglio quando muovo un po' il cursore Ok, non mi è cambiato neanche tanto In effetti no, non mi è cambiato tanto Madò che sporco, ho paura di aprire Ok, cos'è tutta sta roba, che schifo uno Ok, vediamo il bagno che è la parte più Chiudi, 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 chiudi Un errore Ok, il tuo laptop Ok, quindi io in questo momento, a parte la schermata che l'hanno cambiata ed è una roba epica Va bene, andiamo, andiamo, vediamo Allora, apposta Il mio ex mi ha portato via il radiatore, allora queste qua mi pare di averle già fatte Comunque, sono le prime cose che queste qua non le hanno tanto aggiornate Hanno aggiornato perlopiù la grafica da quello che ho capito La velocità del gioco perché è un pochettino più, tra l'altro un pochettino più leggero Perché una volta mi laggava tipo tantissimo È la madosca Cioè con questa scopa qua ci pulisci dovunque, sulla cucina Per terra, nel lavandino, ma si pulisce un po' sui coltelli Voglio vedere la differenza, ok? Prima era bruttissimo, adesso è la madosca Già è bellissimo Allora, radiatore, vediamo un po' Ok, ti dà subito la cosa Qua cos'è? Qua serve? Ah, puoi spostarlo per vederlo Ah, e posso anche muoverlo Cioè, volendo lo posso mettere qui Vabbè, lo mettiamo qua Montiamo E adesso è un po' lento, ma ragazzi, con calma Si arriverà all'andare un po' più veloce Ma questo è normale Spero che si senta bene adesso il microfono Perché l'ho messo la qualità massima Una delle qualità, in realtà non lo so È una qualità media, mi pare Quindi sto migliorando pian pianino Così do la suspense Ok, abbiamo un punto disponibile Mani veloci, vista acuta lungo raggio Mocho ultrai per 2018 Siamo nel 2600 dollari È la madosca Vabbè, terminiamo Ultima cosa che facciamo è mettere a posto l'ufficio In questo episodio non metteremo a posto l'ufficio Da quello che più o meno dovrei fare O mettiamo a posto l'ufficio Non lo so, decidiamo poi dopo Allora, post scenario Pulizia in garage, termosifoni Andiamo su pulizia in garage Vediamo un po' Ok, eccoci qua, casiccia Buongiorno, salve Volevo cercare il garage Oh, che bella casa Ma mi fotto la casa Qua, buongiorno Ah, è la madosca Ah, posso aprire per la luce? Dimmi che gli posso ciulare la macchina Dimmelo, dimmelo Dai, posso? No, non posso Cavolo Allora, porca voia E qua quanto ci metto a pulire tutto? Porca vacca Ok, io spero che mi diano 35 dollari Ho messo, ho tolto a malapena metà strisciata dalla macchina Eh, non male Sono abbastanza pagato Ah, aspetta Borraggio in mani veloci Andiamo su mani veloci, raga Lava la finestra, infatti Esatto Oh, Maria La finestra è una delle cose da lavare Una delle cose più belle e rilassanti Voleva che roba Apriamo la finestra Così li facciamo areare un po' Ok 400 dollari per aver pulito Un cavolo di vabbè Andiamo a termosifoni Andiamo prima a fare i termosifoni Così imparo un po' a montare Vado un goccettino di più veloce a montare Posso correre? Veramente che figo Ok, montiamo un po' di termosifoni Ah, aspetta Contrattazioni Paga più alta Prezzo trattabile Paga più alta ovviamente Qua non ho nulla, no? Allora mi serve Radiatore 1 È abbastanza lento Adesso pian pianino lo miglioriamo Perché è troppo lento Noi miglioreremo tutto su questo Poi piastrellista Tutte le cose lì Intonacatore lo faremo più avanti Nuova puntabilità Eccolo qua Montatore E adesso siamo un pochettino più veloci Se non sbaglio Eccolo qua Vediamo un po' Oh, già si sta un po' ragionando Arriviamo al 50% E montiamo sempre più veloce Qua dobbiamo mettere Se non sbaglio Un lavello Allora Esiste in questo gioco La modalità Notte e giorno Nel senso che di notte Diventa notte E giorno che diventa giorno Grazie Iman forse lo sapevamo già Però comunque Nel senso Esiste questa modalità Che quando giochi In base al tempo che giochi Più o meno Metti un'ora che giochi Diventa notte 40 minuti che giochi Diventa notte Adesso non me lo ricordo Però più o meno una roba del genere E sono curiosissimo Di vedere Il giusto gioco di notte Anche perché comunque Ci sono le luci Quindi nel dubbio Diventa notte Abbiamo le luci Però non è male come roba Andiamo qui Qua ci serve Il radiatore da bagno Eccolo qua E ora pian pianino Che impariamo A muoverci Punto abilità disponibile Abbiamo punti abilità disponibile Ah eccolo qua Montatore 50% Ragazzi Oh adesso siamo veloci A montare tutto Ora Io direi ragazzi Perché più o meno Le cose me le ricordo Ok Cambiamento amaranto Già non me lo ricordo Non me ne ricordo più Ok Sono arrivato fino a qua Quando non avevo aggiornato il gioco Perché non ero tanto andato avanti Però andiamo Preparativa in un nuovo membro E la famiglia Andiamo Ah Ah si questo qua me lo ricordo Era quello tipo lunghissimo Che ci pagavano 5000 dollari Una roba del genere Ok Vabbè intanto iniziamo a pulire Qui Dipingi rosa pastello Rosa pastello Andiamo su Rosa pastello Eccolo qua Acquista Prendiamone due Perché non so se bastano Porca vacca Ma qua che c'è il mobile Come faccio Devo spostare il mobile Si può spostare un mobile Spero di si Perché se non si sposta Io come faccio Ah si si sposta Si sposta Via Via dalle balle Allora No non devo pulire Il barattolo Devo dipingere Diverso Et voilà Signori Ce l'abbiamo fatta Ok Direi che non è male Dai L'abbiamo fatta bene A parte che sta diventando notte Da quello che capisco Perché è sempre più buio Vabbè Mettiamo a posto qua invece Questo lo vogliamo fare proprio preciso Facciamo così No Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Et voilà Ok abbiamo 31.000 dollari Qualcosa possiamo già fare qua O posso vendere qualche roba Grazie Giusto per togliere qualcosa dalle balle E magari guadagnare dei soldi Ecco In questo modo io vendendo Guadagno anche dei soldi Anche abbastanza soldi direi La porta la vendo Sì vabbè Poi se ci entra qualcuno in casa Pazienza Ok Andiamo a pulire un pochettino qui Eh perché scusa Magari uno viene qua Vede un ufficio del genere Se ne va via prima Allora Io comincerei Intanto Dal dentro Perché ci sono Due tipi di cose diverse Allora Intanto mettiamo Un pavimento Decente Allora Ora ci divertiamo raga Pavimento Vediamo un po' che pavimento Possiamo mettere Pannelli neri No Piastrelle da pavimento No Pannelli rivestimenti pavimenti Questo nero Vediamo un po' questo Cos'è Beh Devo dire che non è male Vediamo un po' Devo dire che non è assolutamente male Ok non ci sta male Devo dire Pensavo fosse più scuro ancora Non so voi se vi piace ma Ma il blu così In un ufficio Non è male Perché il solito bianco Senza niente Sì Raine è veramente scuro È la zona Però Mi piace questo scuro Dentro appunto All'ufficio Ha un determinato Uno stile Più da ufficio Cioè Mentre prima Sembrava Beh Prima sembrava una sgabuzzino E abbi pazienza Io di queste qua Quella che preferisco di più È quella lì blu scuro Sì vabbè Dai facciamola blu scuro Ok ragazzi Fatto Abbiamo dipinto anche lì Allora A quanto pare mi mancano Dell'esperienza Per quanto riguarda Posare i pannelli E le piastrelle Quindi In offcam Andrò poi a fare Anche altri lavori Per fare quello E magari guadagnarmi Anche qualche soldo in più Per adesso Dato che il sole dove sta Ok All right All right Ok un pochettino più in qua però Ok poi qui ci mettiamo Una roba del genere Poi qua vediamo Ok andiamo ad allestire Intanto il nostro La zona lì dove abbiamo Quindi la scrivania Allora una sedia Ok sta qua la sedia Ne prendiamo già una Scrivanie Eccola qua Mmm Ma tosca Ma quanto ne hanno giunte Ma che figo Eh vabbè Con la sedia Dello stesso colore Della scrivania Il computer qua Lo mettiamo nero O bianco Nero 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 Questa ora Praticamente non è nero Uno Ah è Wenjie È Wenjie Allora bianco Se devo decidere tra Wenjie e Cosa Decido bianco Ok All right Adesso andiamo a mettere La nostra tv No non ho voglia tv a sospensione Utensili elettrici Eh ci sarà una tv che non ha Sostelevisore Ah andiamo invece a vedere un attimo Il bagno proprio alla velocità La luce sta diventando notte Da quello che ho capito La doccia forse credo sia una delle cose più Lunghe Da installare Però d'altronde Per chi vuole fare il suo gioco Vuol dire che vuole montare Arredare Quindi È ovvio che voglia anche montare O sapere un minimo come si monta una Una doccia Almeno quello Ciao Ma d'osca quanto sono visibile io nella mia Sì in realtà ci sta malissimo Però vabbè Dettagli Allora andiamo a vedere un attimo intanto le lamp Tanto questa qua è il nostro ufficio Non dobbiamo vedere Lampade mettiamo questa Perché mi sono innamorato di sta lampada Pagare roba Però se ce n'è solo quando io entro Perché sta roba Ok sta diventando notte Porta e finestre Finestre Posso metterle Porta e finestra No vabbè Non ho parole Signori Abbiamo arredato Sicuramente un po' meglio di prima La nostra zona La nostra casa Il nostro ambiente di lavoro Allora Prossimo episodio Se volete Continuo Qua farò qualche cosa io di mio Perché comunque abbiamo soltanto 4800 dollari Quindi non ne abbiamo tantissimi Per arredare un'intera casa Contando che 2000 passa Sono andati per questa Figurati per quella nuova Che è un pochettino più grande Ecco questa casetta qua Il bungalow Ci andremo poi Nel prossimo episodio Quindi ragazzi Noi ci vediamo Come sempre In un prossimo video E ciao ragazzi